Siamo qui con Roberto Mezzalama, autore del libro Il clima che cambia l'Italia I ragazzi di Fridays for Future hanno fatto un appello alla politica Cosa pensa di fare Lista Ecologista per rispondere a questo appello? Crediamo di avere le competenze e anche le idee per contribuire positivamente a affrontare il tema del cambiamento climatico Abbiamo cercato di mettere in lista sia attivisti che persone che si occupano a titolo professionale, accademico anche di questi problemi Speriamo che un buon risultato di Sinistro Ecologista faccia crescere la consapevolezza a tutto il Consiglio Comunale sulle azioni da fare Grazie Grazie a te